Subito dopo il fischio finale di Parma Lazio 0-2, la mente di Simone Inzaghi era già proiettata al derby di venerdì sera contro la Roma. I punti di distacco dai cugini giallorossi sono attualmente 6 e l'obiettivo è chiaramente quello di dimezzarli. Il tecnico guarda con fiducia alla stracittadina, ma è importante recuperare due pedine, Joachim Correa e Mohamed Fares. Entrambi sono fuori da prima di Natale per infortuni muscolari. Contro la Roma non ci sarà stracoscia, bloccato da un trauma distrattivo a carico del retto femorale della coscia destra. Da valutare anche a Cerbi che contro il Parma ha lamentato un fastidio agli adduttori. Se fino a qualche giorno fa i rumors descrivevano una Juventus alla disperata ricerca di un attaccante, ora sembra che il club bianconero abbia tirato un po' il freno per quanto riguarda il mercato in entrata, concentrandosi sulle partite e decidendo il da farsi volta per volta, almeno a quanto dice Paratici. Ma per quanto riguarda le possibili uscite, invece, com'è la situazione in casa Juve? Sami Chedira è sempre in cerca di un'occasione in Inghilterra. Al momento per lui ci sarebbe solo Leverton all'orizzonte, ma l'interesse dei Toffis è tiepido e per ora il tedesco non sembra destinato ad un trasferimento. La dirigenza della vecchia signora, invece, è disposta ad ascoltare le offerte per Rabiot e Bernardeschi. Per quanto riguarda il francese c'è sempre Leverton, il cui allenatore Ancelotti è una vecchia conoscenza del centrocampista, colui che lo ha lanciato ai tempi del Paris Saint-Germain. L'Azzurro, invece, potrebbe rientrare in un affare con l'Atalanta nell'ambito di uno scambio con Papu Gomez. Per il momento, però, Bernardeschi sembra ben intenzionato a restare alla Juventus e sta rifiutando tutte le possibilità, compreso Lerta Berlino. Una buona offerta potrebbe fargli cambiare idea? Sono sempre stato contrario al turnover, messo in atto da allenatori privi di certezze, ma a volte sovraccarichi solo di dubbi. Adesso addirittura trovo scandalosa l'opportunità data dai cinque cambi consentiti di cambiare addirittura squadra. Non c'è bisogno di cambiare l'uomo che tatticamente non ti serve più, devi sostituirlo o l'infortunato. No, cambi addirittura squadra per mantenere magari il risultato che hai ottenuto per te prezioso. Non c'è modo migliore per buttarlo via quel risultato. E la prova l'abbiamo avuta ieri in Roma-Inter dalla decisione di Conte di buttare via la squadra che aveva ottenuto con una aggressività straordinaria e bellissima nella ripresa il vantaggio sulla Roma, il 2-1, buttato via da un cambiamento totale di musica con gli orchestrali smarriti, la potenza dell'impresa finita. Ecco, ci vogliono attenzioni particolari per non travolgere quella che è la realtà del calcio. Il calcio si gioca in 11, siamo arrivati a 12, siamo arrivati a 13, a 14. Cambiare squadra in corso d'opera, credetemi, è un delitto. La Mercedes è impegnata nei colloqui con Lewis Hamilton per rinnovare una collaborazione che ha portato alla vittoria di sei titoli iridati in otto stagioni. Lo scorso 31 dicembre infatti si è sciolto il contratto che legava la casa tedesca al pilota inglese e il rinnovo sembrava destinato a concludersi senza particolari intoppi. Recentemente però alcune indiscrezioni suggerivano la presenza di problemi economici che stavano rallentando la trattativa. Ci ha pensato la Mercedes a far tacere le voci definendo i rumors pura fantasia e sottolineando che non ci sono motivi per essere preoccupati per il ritardo del contratto. Queste affermazioni sono state confermate anche dal team principal delle stelle d'argento Toto Wolf, secondo cui i negoziati potrebbero prolungarsi fino alla vigilia dei test prestagionali. Grazie a tutti.